Baba Yaga. La raccolta delle leggende popolari russe pubblicata nel 1859 parla della Baba Yaga che è simile alla strega della nostra tradizione. Come mai popoli così lontani hanno creduto nelle stesse leggende? Commento. Perché la forma coscienza dell'umanità incarnata trasmette le sue informazioni alla forma pensiero dei popoli che hanno evoluzione a fine. Ne risulta che comunità fisiche che non si sono mai frequentate in maniera significativa vivono le stesse informazioni.